io ve lo devo dire adesso perché io ce lo so io non lo so se ce la faccio venire a roma va bene allora vi dico tutto adesso così lo sapete sapete tutto allora si chiama quattro cani per l'osso è di Gioppa Triccianni a traduzione è Leonardo Sbraccia l'abattamento è di Enrico Mazzina io sono John Pepper il regista vabbè fino là ci siamo arrivati poi le scene sono del meno dell'erba le luci sono dei padri in bocciero e poi ci sono gli attori tanto sono bravi questi attori mi piace tanto che non li vedrò questi attori ma io mi chiede solo non lo so gli attori sono Cristina Cirilli c'è Neva Leoni c'è Paolo Gian Grasso e poi c'è quello là Montandò come si chiama amico mio io voglio tanto bene Pietro Montandon va bene al teatro Festival Off a via Giulia il 6 marzo 2018 per due settimane ci stiamo e due dovete venire tutti perché sennò la produzione del teatro Garibaldi di Palermo ieri produzione ma chi se ne frega guarda il sole annaggia la miseria io ci provo ci provo tutta e ci vado e ci vado a Roma teatro Festival Off a via Giulia Quattro cani me lo noto è bello è una commedia oh aspetta aspetta un secondo eh eh mi sono scordato è una commedia se non avete capito capite niente è una commedia ed è buffa a me non si spero ma io posso notare su un cappato quattro cani me lo noto quattro cani me lo noto è che non si spero ma io posso dire che è un po' di